Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 30 giugno e parliamo di analisi ciclica evoluta su Standard & Poor's 500, il mercato principale mondiale. Mercato americano che che cosa ha fatto nell'ultimo periodo? Ha continuato a salire fino al target che avevo dato molto prima che ci arrivasse, ritorniamo indietro appunto al mese di aprile, e ha iniziato da lì a provare a continuare a picchiettare a un certo punto a rotto. In termini ciclici che cosa è successo? Abbiamo prima di tutto fatto un mensile inverso che dura minimo 24 giorni, massimo 32, scusate, minimo 24, in media 32, massimo 43, quindi si è chiuso qua. Poi abbiamo fatto partire un nuovo eventuale mensile con tutte le condizioni controllate, che si è già vincolato di inverso a ribasso e quindi a salire ancora di indice. E siamo arrivati a 11 giorni. Se andiamo ancora a Matrioska a controllare che cosa è successo sull'ultimo settimanale, cosa vediamo? Vediamo una cosa molto interessante, ovvero abbiamo fatto il massimo di durata del settimanale stesso, siamo arrivati a 10 barre più 1 settimanale inverso, e quindi che cosa ci aspettiamo per la giornata di oggi? E se abbiamo avuto una candela di questo tipo, che è fatta da chiusura, mi aspetto discesa. Mi aspetto discesa perché oltre 11 non si va. O vogliono mettere un raccordo, ma sarebbe strano vederlo qui, tutto è possibile, ok? Ma il raccordo inverso non posso tenerlo sempre come opzione di riserva. Infatti chiedo sempre a chi inizia lo studio della ciclica voluta di eventualmente vederlo in seconda sede. Se dobbiamo guardare quello che deve succedere, deve partire un nuovo team verso e quindi ci deve essere discesa per lo meno per oggi come minimo. Come minimo. Con che target? I livelli di supporto possono essere i 4272 piuttosto che altri. Possiamo andare anche in questo caso a prendere un semplice Fibonacci, tratteggiarlo da qua a qua e andare a vedere quali sono i singoli livelli che si possono eventualmente raggiungere. Per cui, per oggi, attenzione, e eventualmente anche per i giorni successivi, perché peraltro abbiamo bisogno della condizione di chiusura di questo nuovo settimanale partito da questo minimo. E come sapete ci vuole almeno un T-3, ovvero un ciclo giornaliero ribassista, ovvero che parta da un minimo e si ritrovi su un minimo sottostante. Questo cosa può far partire? Allora, escludendo per ora l'ipotesi di un trimestrale o di un mensile che è comunque arrivato a 36 barre, farà partire un nuovo T settimanale che rischierà di nuovo, visto che il primo si è già vincolato, di vincolarsi anch'esso e di continuare a portarci a salire. Però le provisioni erano corrette, siamo andati anche a rompere e stiamo cercando di portare il più avanti possibile come tempo questo semestrale che ormai sta diventando praticamente infinito. Però, come vedete, si va continuamente soltanto, in caso di chiusura di mensile, a toccare la media mobile a 50 periodi in rosso e poi si rimbalza. Qui avevamo trovato un soffitto, è stato rotto, quindi attenzione, spazi ce ne sono ancora sia in termini di tempo che in termini di prezzo. Per il resto, se avete bisogno di altre informazioni e di sapere come funziona la ciclica evoluta, a me, tanti anni fa, sono stati dati degli appunti, sono delle bozze praticamente di ciclica per poter partire, dove ci sono le regole base. Se vi fa piacere posso contraccambiare quello che è stato fatto per me tempo fa e fare lo stesso con voi, per cui chiedetemele tranquillamente se volete imparare questo metodo matematico e statistico. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata, ultimissima cosa, eventualmente inizierò a fare delle squadrature da zero su loro, se vi interessa le troverete sempre qui. Arrivederci!